Buongiorno a tutti, questa sera inizia il Festival di Sanremo, la 74esima edizione, la quinta condotta da Amadeus, che ha voluto esordire con tutti e trenta i cantanti in gara, proprio a dimostrare che la musica è sempre stato il centro della sua attenzione e espressione di contemporaneità. Le canzoni le avete ascoltate anche ieri durante le prove, sono canzoni che proprio esprimono tutto quello che sentono i cantanti più giovani e quelli meno giovani, perché la musica è espressione, libertà, denuncia ed è espressione di contemporaneità in qualche modo e riesce appunto magicamente ad unire il pubblico di tutte le età. La cosa più importante che ha caratterizzato proprio il Festival di Amadeus è stato il fatto che giovani, genitori, nonni si sono riuniti di fronte alla tv per trascorrere insieme dei momenti anche di distrazione e di intrattenimento, che poi è la forma anche più importante che la nostra direzione porta avanti. A cocondurre con Amadeus quest'anno sarà Marco Mengoni, che esordirà quindi poi come da tradizione con la riproposizione della canzone vincitrice e poi ci sorprenderà nel corso della serata con altre cose. Vi dico, io ero lì dietro, in una saletta della conferenza stampa, io studiavo e lui cantava, quindi insomma ci possiamo immaginare. Aprirà la settantaquattresima edizione del Festival, la fanfara del quarto reggimento a cavallo dei Carabinieri che eseguirà la fedelissima, che è la marge di ordinanza del corpo, diretta dal logotenente Fabio Tassinari. Ci sarà poi nel corso della serata anche un omaggio a Toto Cotugno e ci sarà la mamma di Gian Battista Cutolo, Gio Gio, la signora Daniela, che ricorderà in un momento molto emozionante il figlio. Come diceva ieri Amadeus, il Festival quest'anno sarà anche caratterizzato dai momenti di riflessione di chi sul campo ha attraversato momenti difficili. Altra sorpresa di questa sera ci sarà la sciatrice Federica Brignone, quindi dalle piste direttamente all'Ariston, che è l'italiana che ha il miglior palmarès di sempre. Mi sembra più o meno di essermi ricordato tutto, le 30 canzoni saranno votate dalla giuria della stampa TV e web e al termine della serata verrà stilata la classifica delle cinque prime canzoni. L'inizio è previsto per le 20.40-20.45, dopo il prima festival e la fine. Siamo circa intorno alle 2, vero mamma? Più o meno.